Ben trovati amici di LeccoFM, quest'oggi siamo in compagnia di Giovanni Galimberti, referente del comitato pendolari Lecco-Como per parlare di una problematica che da tempo affligge la linea Lecco-Molteno-Como. Che cosa sta succedendo? Ci spieghi un po' qual è la situazione. Buongiorno, purtroppo la situazione è quella di un servizio regionale che di fatto è azzoppato, è dimezzato. In seguito al lockdown, con la fase 2, i treni erano solamente il 43% di quelli previsti nel servizio standard, quindi delle 23 corse giornaliere ce ne erano solamente 10. Noi abbiamo alzato la mano con Regione Lombardia, in particolare con l'assessore Terzi a fine marzo, indicando cosa fare per garantire la sicurezza dei passeggeri che dovevano andare sul posto di lavoro tra Como, Lecco e anche verso la Svizzera, ovvero l'introduzione di corse aggiuntive e il cadenzamento orario del servizio. Non abbiamo ricevuto risposta, abbiamo dovuto purtroppo risollecitare nel mese di giugno per provare ad ottenere qualcosa, perché di fatto i treni non c'erano e erano anche pochi utilizzati, ci risulta perché proprio c'erano dei buchi orari clamorosi, cioè al pomeriggio c'erano treni ogni due ore e al mattino c'era un buco di sei ore senza treni, quindi l'ultimo era le 8 e mezza del mattino, poi fino alle 12 e 30, anzi oltre alle 12 e 30 non c'erano treni. Purtroppo nemmeno a giugno abbiamo ottenuto risposta, ha iniziato a muoversi qualcosa con il 15 giugno, perché pochi giorni prima abbiamo lanciato sul tavolo un altro problema, il tema dei frontalieri, perché il canton Ticino il 15 giugno ha di fatto iniziato a richiedere ai lavoratori frontalieri di rentrare in ufficio, la linea ferroviaria è usata anche dai frontalieri ovviamente, perché a Como cambiano e salgono un sitilo per andare in Svizzera e a quel punto Trenord ha reintrodotto due corse ed un bus, due corse al mattino, però di fatto il servizio è salito dal 43% al 52%, il buco alla mattina si è un po' ridotto, ma permane ancora una situazione di gravità e purtroppo l'assessore Terzi ha risposto alla nostra sollecitazione con una risposta che non possiamo assolutamente ritenere valida e accettare, perché quello che dice l'assessore Terzi non sta né in Cina né in terra. Quindi diciamo che la situazione già grave prima si è aggravata ulteriormente con la situazione di lockdown, tant'è che appunto anche in una fase attuale, in fase 3, insomma in un momento di distensione in cui il lockdown non c'è più, si è passati a dimezzare sostanzialmente le corse, quindi da 24 a 13 attuali, l'assessore competente, l'assessore Terzi, se siete riusciti finalmente insomma al terzo tentativo a contattarlo, ha fornito una giustificazione che a vostro parere non è sostenibile, non è accettabile. L'assessore Terzi ha rilasciato un comunicato stampa dopo il 15 di giugno con un giubilo perché venivano reintrodotte due corse sulla Comolecco, due corse al mattino e che quindi il buco d'orario si riduceva, indicando però che il buco di orario e il taglio del numero di corse e la non possibilità di introdurre più corse soprattutto al mattino perché sarebbero quelle più utili, è dovuto all'IPO, che l'IPO in gergo ferroviario è l'interruzione programmata dell'orario, quindi di fatto il proprietario della rete ferroviaria, che in questo caso è RFI, per la Comolecco, così come per la maggior parte delle linee ferroviarie della Lombardia, richiede sostanzialmente un veto sull'utilizzo della linea ferroviaria in determinati orari, perde le attività varie dalla manutenzione piuttosto che alla movimentazione merci o d'altro. Faccio presente che Regione Lombardia ha un accordo quadro con i proprietari dei binari per cui l'erogazione del servizio deve andare sopra a qualsiasi altra necessità e che l'alto proprietario di binari in Lombardia, quindi Ferrovie Nord, da ormai da più di un decennio ci risulta che faccia la IPO di notte, quindi è solo RFI che ha bisogno di questa IPO, ci risulta in mattinata. Questa IPO è dalle 9.30 alle 12.30, dice l'assessore Terzi. Quindi creando un buco di molte ore. Il problema è che questo buco c'è da sempre, c'è dal 2019 praticamente, tant'è che sulla Comolecco, se voi guardate gli orari, non ci sono treni che circolano fra le 9.30 e le 12.30, quindi l'assessore Terzi viene a dirci che i treni non vengono reintrodotti perché c'è l'IPO, ma l'IPO c'è da sempre, purtroppo quello che abbiamo sollevato insieme a più di 20 altri comitati pendolari della Lombardia e i rappresentanti dei viaggiatori nella conferenza regionale del trasporto pubblico locale, con comunicato di pochi giorni fa, è che questo schema di passare la responsabilità della non erogazione di un servizio, quindi spostarla verso il proprietario della rete ferroviaria, è un tentativo sgangherato e proprio scomposto di nascondere qualcos'altro. A nostro avviso c'è in atto qualcosa per andare davvero a ridurre le corse e far diventare davvero la Comolecco un ramo secco, che è una battaglia che è già stata vinta anni fa. Quindi la richiesta è quella di aumentare il numero di corse per rendere la tratta più fruibile dai pendolari che probabilmente sarebbero maggiori nel caso in cui il servizio fosse più accessibile. Il comunicato è stato sottoscritto come anticipavi da 20 comitati di pendolari di tutta regione, quindi una richiesta che proviene da più parti. Quali sono le richieste che fate alla regione nello specifico? Nello specifico la richiesta è la stessa che abbiamo avanzato alla fine di marzo a Regione Lombardia, ovvero il 100% del servizio solo a Comolte, non ecco, cioè come prima del lockdown, 23 corse al giorno. Aggiungo che poche settimane fa abbiamo risollecitato anche direttamente Trenord in questo caso e i dirigenti di Regione Lombardia, suggerendo addirittura uno schema di servizio che farebbe risparmiare effettivamente a Trenord, a Regione Lombardia, l'utilizzo di un equipaggio di un treno, perché il 100% del servizio, le 23 corse al giorno, sono erogate con tre treni e tre equipaggi. Noi abbiamo proposto un cadenzamento orario che libererebbe un treno e un equipaggio, quindi avere solamente due treni e due equipaggi che fanno spola fra Como e Lecco, rimodulando il servizio e garantendo un treno ogni ora. Non ci hanno neanche ascoltati. Poi aggiungo una questione, la Como-Lecco tipicamente chiude due o tre settimane nel mese di agosto, chiude durante il periodo festivo vacanziero delle feste di Natale, per due settimane più o meno, e non ci sono treni la domenica ai festivi. Cioè è questo il tipo di servizio che si meritano le province di Como e la provincia di Lecco come servizio e ferroviario. Vediamo le immagini delle strade provinciali, nonché delle statali, fra Como e Lecco completamente intesate il sabato e la domenica e non ci sono treni sulla Como-Lecco. Cioè è ispirato. La richiesta è chiara, l'appello è stato fatto, aspettiamo una risposta da Regione Lombardia e dall'assessore competente terzi. Se posso aggiungere una cosa, chiaramente in queste comunicazioni che abbiamo inviato all'assessore terzi, l'abbiamo inviata anche ai vari consiglieri regionali dei territori, al sottosegretario di Regione Lombardia Turba che si occupa anche di trasporti, nonché a tutti i sindaci dei comuni che sono toccati della linea ferroviaria a Como-Lecco e agli assessori competenti. E purtroppo ad oggi nessuno ha risposto. Quindi io sollecito anche una presa di posizione da parte degli amministratori, soprattutto della città di Lecco, perché una volta che una linea ferroviaria cade in disuso perché non c'è servizio e poi si chiude... Meno persone arriveranno, certo. Ci sarà meno possibilità di rimanere connessi. Noi ringraziamo Giovanni Galimberti e insomma... Grazie a voi per lo spazio. Grazie. 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 Grazie.